Salve a tutti, ragazzi e benvenuti. Allora, questa è la chat che ho fatto con un mio amico, di cui ci siamo scritte cose divertenti. Quindi, buona visione! Allora, inizio io. Weekend romantico e non si può fare foto, video più visti della Madonna del Carmine. Dentro il mio curriculum al vitale, in modo da internet che non sai quanto mi riguarda, non ho ancora ricevuto il messaggio. Raga, le cose che vedete scritte qua sono delle cose che una volta di sera, mi sembra, sì, era l'una di notte, mi sembra. Non è quattro. Ci siamo scritti di notte, io e il mio amico. Eeeh, boh, vabbè, io vado a dormire tardi perché sto su YouTube a guardarmi video, quindi non so, non sapendo cosa fare, mi sono messo a chatare col mio amico dicendo cose strane. Non so come si fa, cao, che ora, eh, ora torno forse tardi e non so a che ora torno, quando torno ti avviso e gioco più con te, fa... Scuola, sai cosa? Ho fatto colazione con i miei amici su Fortnite. Poi, io ho dei carri armati di pistola a spruzzo di Casamassi, ma a fare un salto in ufficio. Ovviamente le cose che sono scritte qua sono tutte così cavolate. Non prendetele sul serio perché sennò, poi, non ha senso. Vabbè, eh, a fare un salto in ufficio, non si tratta di Casamassi, ma tutti i giorni di ferie e non si capiva di Casamassi, ma a fare un salto, da voi richiesto, vi invio il mio curriculum vitae e in quanto non è un bambino di Casamassi, ma casciano delle... Vabbè, non c'è bisogno. Tu sei la persona che ha fatto il pagamento della Madonna del Carmine, tu non sei quanto mi riguarda, non ho ancora ricevuto il messaggio, è stato visualizzato nel computer del caro della Madonna... Vabbè, e non fa niente da fare foto e video, più visti della... Vabbè, del venerdì e sabato mattina alle ore di lavoro, e buona giornata, buon lavoro, e buona... Raga, si è accesa la tv, cioè, stavo sotto al mio piede, il telecomando si è accesa la tv, mi sono preso un infarto. Mamma mia! E non si capiva che ore... Vabbè... Mamma mia, aspettate, mi sono perso un attimo, perché mi sono preso un infarto. Buona giornata anche... Del venerdì e sabato mattina alle ore di lavoro, e buona giornata, e buon lavoro, e buona giornata, anche dei carri armati di Casamassima... Perché si è riaccesa di nuovo? Oddio mio! Allora, continuiamo. Casamassima... Vabbè... Mi taglia la nostra società, e non entra i due emoji di Casamassima. Quanti infarti mi sto prendendo oggi, ragazzi? Non immaginate! Allora... E non si capiva che ore è tutto, che i grazie mille per la Madonna del Carmen e tu, non abbia ancora ricevuto il messaggio. Aspettate... Vabbè... Destinato esclusivamente al carnevale di Casamassima, a fare un salto, a vedere il video di presentazione del libro di A tuo zio. Non... Vabbè, non ha cavolato. Ma questa è l'ultima, e poi ci salutiamo. Francesco, iscriviti subito al Facebook di vostra risposta. Vi porgo i distinti saluti di nuovo stickers di Casamassima, Casacciola, Terme... Vabbè... Ehm... C'è una parte che non posso dire, perché... Potrei avere... Potrei essere... Ti invio il mio curriculum vitae, e resto in attesa del Carmine. Tu hai già fatto il bonifico per taggarmi. Scrivetelo, il messaggio è stato letto il giorno dopo giorno. Vengo a prendere il treno da Roma, e non si capiva che... Ora... Andate a... Puuu! Raga, allora... Ehm... Niente... Qua ci sono le nostre cose. Comunque, raga... Spingiamo le... Le... Se avete... Se qualcuno sa come abbiamo fatto, lo scrive nei commenti. Perché è molto facile farlo. Se voi volete chattare così con un vostro amico, Basta che... Dove escono le parole, scrivete... Mettete una lettera, e poi vi escono le parole, E voi spingete su quelle parole, e fate una cosa. Questa qui, per ora, erano quelle che ci siamo scritti la scorsa notte. Beh, la scorsa non penso, perché era il 9 luglio 2020. Oggi è... 15, domani la Madonna del Carmine. Per chi si chiama Carmine, auguri a tutti... A tutte quante. Ehm... Niente... Vi saluto, e... Ci vediamo un prossimo video, in cui stavo pensando o di farlo horror, O fare un vlog, in cui non facciamo vedere la faccia, Però andiamo alla casa abbandonata di Cella a Mare. Oppure, perché nel mio paese abbiamo un paio di case abbandonate, Quindi ci andremo poi. Ehm... E niente, poi non so proprio... Cosa fare. Quindi ci sentiamo, poi... Scrivetemi nei commenti che video volete che esca. Perché proprio io non so cosa fare. In questi giorni uscirà qualche video strano, stupido. Vabbè. Ciao.